Era chiuso dal dicembre 2019 a causa dei danni e delle infiltrazioni che violenti i nubifragi avevano provocato al tetto, al sottotetto e alla pavimentazione. Il Museo archeologico di Salerno da oggi è stato ufficialmente restituito alla città capoluogo della quale custodisce importanti testimonianze. Il Museo di Via San Benedetto è infatti una struttura già molto prestigiosa come contenitore dal punto di vista storico e architettonico, ma è anche un pregevole sito archeologico per i reperti che custodisce e che raccontano la storia del territorio salernitano, dalla preistoria con reperti che arrivano dall'area di fratte, senza parlare della celebre testa in bronzo di Apollo, ritrovata nel 1930 nelle acque del Golfo Salernitano, cantata da Giuseppe Ungaretti e diventata di fatto il simbolo dei musei provinciali. A sottolineare il valore e il pregio dell'intervento che ha consentito di riaprire il museo, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, delegato alla provincia per i siti museali. Il Museo archeologico è uno dei primi impegni che il Presidente Sirianese aveva assunto per la riapertura. Era un qualcosa che ci veniva richiesto non solo da quanti visitano la città di Salerno, ma anche dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai cittadini di Salerno. È il polo più importante che insiste nella città, oltre al Castellarichi e alla Pinacoteca provinciale. Quindi andiamo a restituire un bene che è di fondamentale importanza e dove all'interno sono custoditi i reperti anche dell'area archeologica di fratte, ma soprattutto quello che ci può consentire di fare anche dei gemellaggi importanti per quanto riguarda la testa di Apollo che è conservata all'interno della struttura. L'obiettivo dell'amministrazione provinciale è sicuramente quello di fare una programmazione cercando di coinvolgere anche il tessuto sociale e culturale della città di Salerno, riempire un contenitore culturale con delle attività per farlo rivivere. Questo è uno degli impegni, sicuramente poi lavoreremo anche per quanto riguarda Villa Guariglia, stiamo cercando di lavorare ancora sull'area archeologica di fratte, ma soprattutto stiamo cercando di individuare quelle che sono le opportunità del PNR. Nonostante la provincia è un ente di secondo livello, stiamo facendo in modo di partecipare a tutti i bandi e nella prossima borsa archeologica dove la provincia ritornerà ad essere protagonista punteremo l'attenzione proprio su questo, cercare di coinvolgere gli altri presidenti di provincia, gli assessori alla cultura delle province italiane per focalizzare l'attenzione su quelli che sono i patrimoni che conservano le province, nonostante come dicevo prima la riforma del Rio ha trasformato le province in istituzioni di secondo livello. Quindi dobbiamo dare l'attenzione anche da parte del governo centrale, cercare di appostare più risorse per valorizzare i beni culturali. In questo edificio invece si deve puntare all'eliminazione delle barriere architettoniche, la provincia di Salerno è impegnata a reperire risorse per superare questo problema? Sì, un'altra sfida importante della direzione dei musei provinciali di Salerno è sicuramente quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Sia all'archeologico ma anche alla pinacoteca registriamo delle difficoltà per i diversamenti abili. Sono strutture che vanno un po' in deroga dai vincoli anche della sovrintendenza per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ci stiamo lavorando cercando di riperire ulteriori fondi, nonostante la provincia di Salerno è in piano di riequilibrio finanziario. Anche questo intervento che ha consentito la riapertura è da fondi ordinari del bilancio della provincia di Salerno. Soddisfatta anche Pacchi Memoli, vice sindaco di Salerno, ma che come consigliere provinciale in passato aveva più volte valorizzato il sito. Abbiamo dimostrato che siamo delle persone che le cose le fanno. Questo è un luogo importante perché è il luogo della cultura. La cultura rappresenta la conoscenza e la conoscenza, come diceva Aristotele, è praticamente la meraviglia delle cose. Se noi non abbiamo la conoscenza e la cultura, non siamo delle persone diciamo libere. Per cui questo museo deve essere sicuramente custodito e valorizzato, anche perché rappresenta un trade union tra il passato e il presente. E sappiamo che non c'è presente se non c'è il passato. E dobbiamo invogliare anche le nuove generazioni a visitare i musei. Dobbiamo fare la cultura perché, come dicevo prima, la cultura è conoscenza. Grande soddisfazione anche da parte del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Abbiamo unito tutti i nostri sforzi in un grande lavoro di squadra, ha detto il vertice di Palazzo Sant'Agostino. Il museo sarà aperto tutti i giorni, tranne il lunedì che è la giornata di riposo di tutte le strutture museali.